Sergio Staderini ha scelto il silenzio, l'ex amministratore di Coingas ed ex uomo di fiducia del sindaco Ghinelli, alla fine infatti ha deciso di non presentarsi all'interrogatorio che era in programma per oggi ed in procura per essere ascoltato in merito ai fatti contestati legati al caso Coingas non si presenterà nemmeno l'avvocato Pierettore Rason, il professionista a cui la partecipata affidò le ormai famigerate consulenze d'oro finite nel mirino degli inquirenti perché ritenute non utili e dispendiose. Per entrambi l'accusa è quella di peculato in concorso. Staderini e Rason hanno dunque rinunciato all'interrogatorio, una scelta ampiamente condivisa anche dagli altri 11 destinatari degli avvisi di chiusura indagini dell'inchiesta che il PM Roberto Rossi è ereditato da Andrea Claudiani, magistrato trasferitosi a Perugia. Unica eccezione fatta per Luca Mendola, ex presidente di Arezzo Multiservizi, dimessosi subito dopo la notizia che ad agosto aveva provato a chiarire la sua posizione di fronte agli inquirenti. Tutti gli altri indagati, tra i quali spiccano nomi eccellenti come quello del sindaco Alessandro Ghinelli, dell'assessore Alberto Merelli, dei presidenti di Coingas e destra Franco Scortecce e Francesco Macri, attenderanno adesso la decisione su un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, verdetto che con ogni probabilità slitterà dopo le elezioni, eventuale ballottaggio compreso.